Io adoro FoodSpring perché FoodSpring mi permette di proteggere il corpo, perché è importante proteggere la nostra salute attraverso il movimento, volerci bene, pensiero positivo, ma la nutrizione. Secondo me la nutrizione è una delle cose più importanti in assoluto, perché si chiama nutrigenomica, possiamo aiutare il nostro corpo attraverso quello che mangiamo. La cosa più bella è sapere che nella natura abbiamo già tutto quello che ci serve, io su questo sono convinta che Dio ha già messo tutto alla nostra disposizione, semplicemente dobbiamo andare a studiare, scovare, provare e vedere quello che succede sul nostro corpo. FoodSpring è eccellente perché ci dà la possibilità di avere prodotti veramente naturali, veramente con i principi attivi estremamente azzeccati per la nostra salute. E oggi volevo parlarvi proprio di una cosa importantissima, gli elettroliti. Gli elettroliti è l'idratazione, l'idratazione entra cellulare, perché extra cellulare è un po' più facile, ma entra cellulare è fondamentale, specialmente dopo che abbiamo fatto uno lungo allenamento. Allora, quanto di voi correte a prendere quelle bibite zuccherate, colorate, è chiamato sport drink, però che sono non necessariamente molto salutari per il nostro corpo. Sono pieno di sodio, pieno di zuccheri, pieno di coloranti e pieno di conservanti. Allora, per un certo verso ti stai aiutando perché il potassio e sodio serve dopo un allenamento, ma spesso e volentieri tutta quell'altra roba non serve affatto. Allora, sono tornata con un nuovo prodotto, un prodotto che io lo trovo geniale, perché è un prodotto naturale ed è un prodotto che viene dal madre natura e io adoro, si chiama Coco Whey. Coco Whey è favoloso perché viene estratto dai cocchi vergini, quelli verdi, dove c'è il liquido all'interno di quel cuccio, che è ricco, ricco, ricco di elettroliti e di sali minerali come il potassio. Il potassio è importantissimo per noi sportivi perché ci aiuta alla fine dell'allenamento a riintegrare i sali minerali persi da una parte, ma i liquidi, i liquidi perché il cocco aiuta a riidratare le nostre cellule, la nostra acqua intracellulari, intracellulari, proprio quella che sta dentro le cellule per far sì che il nostro metabolismo funzioni al meglio, che l'idratazione della nostra pelle sarà al meglio, che abbiamo proprio veramente una salute migliore. Allora, Coco Whey perché mi piace? Avete visto le bibite colorate, i zuccherati? Sì, sono pieni di sali minerali, però ragazzi, i coloranti non sono positivi per il vostro corpo, ma Coco Whey lo è, perché se guardate bene, guardate il colore, il colore, no, ve lo porto più vicino, guarda, il colore è il colore dell'acqua, ok? Ma il colore dell'acqua, aspetta, si dice che il Coco Whey addirittura ti idrita meglio dell'acqua stessa. Allora, abbiamo non solo la possibilità di idrattarci, non dico all'istante, ma quasi, abbiamo la possibilità di avere una grande quantità di potassio naturale, da madre natura, dai cocchi vergini, il potassio è importantissimo per aiutarci contro i crampi. Allora, io non so voi, ma io in estate sudo tantissimo, specialmente durante i miei allenamenti, mi piace allenarmi a mezzogiorno, mi piace allenare sotto il sole il battente, ma perdiamo sali minerali e poi la notte, che potrebbe succedere, possiamo avere contratture, potremmo avere crampi, possiamo avere problemi di fatica muscolare, invece il nostro Coco Whey ha quasi il doppio del potassio di una solita bibita sportiva colorata. E a questo punto abbiamo la natura, il Coco, però rinforzato, perché abbiamo il Whey, che è una proteina, meravigliosa la proteina, perché la proteina ci permette di aiutare il nostro muscolo, alla fine del nostro allenamento, recuperare. A questo punto, idratazione, proteine, ricupero, addio ai crampi, stiamo meglio, senza coloranti, con pochissimi zuccheri, ma zuccheri naturali che viene dal Coco stesso. Insomma, è una situazione, come si dice in inglese, win-win con Food Spring. E poi c'è l'altra cosa con Food Spring che è importantissima, ragazzi, il mio codice sconto, Jill YT, così alla fine, quando arriverete a ordinare il vostro prodotto di Food Spring, basta alla fine sul checkout a scrivere Jill, J-I-L-L-Y-T, e avrete uno codice sconto pari a 15%, ed è interessante per provare che cosa, Coco Whey, qui è Coco Whey con ananas, insomma, prodotti e miglior sports drink sulla pianeta naturale, il Coco. Ciao a tutti, rispetto alla prossima, con Jill e con Food Spring.